Per me è una grandissima soddisfazione, perché io credo che Arenzano meriti di essere considerata una città della poesia. Non voglio riandare a Carducci, ospite del Conte Figoli, però abbiamo avuto Giorgio Caproni, insegnante alle scuole elementari, abbiamo avuto Lucia Rodocanachi, che accoglieva nella sua Casa Rosa i poeti negli anni 30. Quindi c'è una tradizione che per conto mio va mantenuta. E mi sembra che un premio di poesia dia dignità e all'ascolto della poesia. Quindi io credo e spero proprio che questa tradizione possa continuare nel tempo, non essere una manifestazione, una tantum, insomma. Perché c'è bisogno di manifestazioni, di grande respiro per sollevarci da una cultura raffazzonata, da una cultura di massa che non dà valore alla parola. La parola è importante, perché quando mancano le parole si ricorda la violenza. Quindi sono contentissima. Ringrazio l'amministrazione comunale che ha creduto in questo nostro sogno, mio e condiviso da altri, dell'Uni3, di poter continuare. Come hai iniziato a scrivere poesie? Non c'è stata una data precisa. Credo di averla sempre coltivata senza saperlo, anche da quando ero, non dico proprio bambina, ma insomma neppure adolescente, insomma, verso io. Perché mi rendevo conto che lo sguardo che avevo per le cose cercava anche dell'altro, insomma, non è che si accontentasse molto, ecco. Quello che vedeva immediatamente, cercava dell'altro. E ho un ricordo abbastanza preciso di questo. Una volta che ero al Giannico, io sono romana, al Giannico c'è una grande vista, insomma, dall'auto, di Vella Borghese, ed ero con mia madre e c'era la migrazione degli uccelli che andavano verso il sud, insomma, no? Perché doveva essere novembre, non so, ottobre-novembre, quindi andavano a cercare il caldo. E questo movimento degli uccelli che creavano delle forme geometriche, ecco, fu qualcosa che mi colpì moltissimo e che mi fece capire che appunto quelli non erano soltanto uccelli, ma erano anche forme geometriche, erano un andare indietro e un tornare avanti, era un fruscio continuo, era un cinguittio, insomma, conteneva tantissime cose che mi toccavano e che erano qualcosa che partenevano evidentemente a una sensibilità portata all'osservazione della realtà, poi del mondo della realtà, però delle sue forme forse anche più interessanti e forse poco osservabili. Ok, adesso passiamo al suo libro. Ecco, che è più difficile. Se può presentarlo in un minuto. Sì, ma il mio libro si è formato, come anche gli altri libri, da un insieme di poesie che io scrivo regolarmente e che negli anni si accumulano, insomma, è come se fosse, non so, in un cesto, ci fossero tanti fogli, o faccio così, e quindi non è che c'è un progetto preventivo, è la scrittura di un periodo di tempo. Quindi prendo tutte queste poesie scritte nel corso di qualche anno e comincio a selezionarle, a modificare alcune cose, a lavorarci ancora, finché non trovo una composizione del libro in sezioni. I miei libri, come quasi tutti i libri di poesia, sono divisi in sezioni. A queste sezioni do un titolo perché io sento che quella sezione contiene, non voglio dire un tema, ma appunto una percezione, diciamo, della realtà di un certo tipo, non so, il sogno, l'immaginazione, oltre all'amore, oltre all'emozione, oltre a queste cose qua. E poi suddivido il libro appunto in queste sezioni e poi si compone, insomma, ci vuole tempo. E' un bel lavoro con quella della composizione dei libri. Come è nata la sua passione per la poesia? Come ha iniziato a scrivere? Siccome ho una certa età, diciamo, è una cosa che si perde un po' negli anni, ma ho cominciato non con la poesia, ma con la narrativa, quando ero giovane, molto giovane, da sui 18 anni. E ho cominciato anche con il mio amico fotografo che abbiamo creato dei libri di fotografia e di narrativa, raccontando un po' la nostra città, cioè la mia città che fanno nelle Marche. Poi invece improvvisamente ho visto che la poesia mi affascinava di più e questo lavoro sul linguaggio mi ha sempre appassionato da ormai 40 anni. Infatti questo libro raccoglie le poesie dal 1980 al 2020. Ecco, volendo presentare il suo libro, cosa puoi dirci? Ecco, appunto, essendo un'antologia, però con una parte iniziale e una parte finale, inedite e nuove, è un ripercorso di tutti quegli anni, infatti il titolo è Come è passato il tempo, ripercorrere un po' tutti gli itinerari che con la poesia avevo percorso, insomma, e ho visto delle strane cose perché con il passare del tempo alcune cose in cui si dava valore magari se ne dà di meno e altre invece acquistano valore, per cui è stato un po' ricomporre parte della propria vita. Cioè, qual è la molla che è scattata nel momento in cui ha deciso che voleva scrivere poesie? Cioè, com'è nata la sua passione per la poesia? Beh, è nata da bambino. Già quando ero bambino piccolo, l'ho scritto nel mio libro che è uscito ultimamente, ho sempre pensato di voler essere un poeta, poi non sapevo neanche che cosa fosse la poesia, come tutti. Poi ho cominciato a leggere molta poesia, alle scuole medie ho avuto una professoressa molto molto brava che ci faceva leggere la poesia contemporanea, parlo del primi anni 60, allora non si facevano queste cose. Poi mi sono dedicato soprattutto alla musica per più di una decina d'anni e ho fatto quel mestiere lì. Nel frattempo scrivevo poesie, però non le ho mai pubblicate perché appunto facevo un altro mestiere e nei primi anni 80, adesso sarebbe lungo raccontare il come e il perché non voglio annoiare, invece sono, mi sono dedicato completamente alla poesia, quindi sono più di 30 anni che faccio soprattutto questo, cioè scrivere poesie. È una cosa molto diversa da cantare, io facevo cantante, scrivevo i testi e li cantavo. Qual è la differenza? Abissale, nel senso che quando si scrive per cantare si pensa a un pubblico determinato e si ha anche un contatto fisico con il pubblico, bisogna stare su un palco, esporsi la voce, è qualcosa di estremamente fisico, mentre la poesia è un esercizio che si fa da soli pensando a un lettore potenziale, ma chissà mai chi sarà, non te lo troverai mai di fronte, poi in alcune occasioni alle letture ci si trovano di fronte ai propri lettori, però di solito il lettore della poesia è un lettore del tutto potenziale, virtuale e quindi la poesia ha anche un rapporto con la parola molto diverso, non cerca un effetto immediato, ma cerca un effetto, come dire, a rilascio prolungato, diciamo così. Se dovesse presentare il suo libro con poche parole, cosa direbbe? Il libro che presento stasera è un libro stranissimo perché si chiama Autoritratto Automatico ed è un ragionamento su una collezione che ho fatto da 68 a oggi di miei autoritratti nelle fototessere, nelle cabine delle fototessere, quindi sono 750 fototessere mie da quando avevo 18 anni a oggi, fino a 75. Ed era uno strano esperimento e è venuto fuori un libro perché il mio amico Antonio Riccardi, che è un bravissimo poeta e anche editore, quando ha visto questi album in cui io raccolgo le mie foto mi ha detto che devi assolutamente scrivere un libro. e quindi è un libro di poesia un po' particolare. Infatti nella copertina sono queste foto di me da giovane, ahimè! E poi però le poesie non sono una didascalia ma sono un ragionamento sulla faccia. Infatti tutta la prima sezione si chiama Perso la faccia e quello è... l'oggetto della ricerca è la faccia, la fisionomia che cambia continuamente nel corso degli anni.